Ciao, io sono Antonio e come ogni martedì anche oggi nuovo video a tema Harry Potter. Ragazzi, finalmente eccolo qui in tutta la sua maestosità, il castello di Hogwarts di Lego finito. Ho impiegato davvero tante ore, circa 20 ore per finirlo, ma ragazzi è stato molto molto divertente e devo dire anche abbastanza complicato. Pensavo fosse più semplice e invece no, ci vuole una buona dose di dimistichezza, perché infatti anche sulla scatola è riportato che l'età minima consigliata è 16 anni e direi che è anche giusto, vista la complessità di alcuni passaggi. Però mi è piaciuto davvero tanto montarlo, sono stato molto attento a non perdere nessun pezzo, naturalmente il fatto che i vari pezzi siano distribuiti in circa 36 buste, se non sbaglio, rende la cosa molto molto più agevole. Anziché avere un sacco grande così con 7000 pezzi, si hanno tanti piccoli sacchetti da aprire man mano che si procede nei 4 volumi che compongono le istruzioni di montaggio per questo set. Devo dire che le istruzioni in alcuni passaggi non sono chiarissime, perché a differenza dei set più piccoli, dove viene riportato il pezzo bordato di rosso da inserire all'interno della composizione già assemblata, quindi qualora voi assemblaste un pezzo formato da più pezzi piccoli, vi viene detto di solito dove andarlo a posizionare e viene bordato di rosso per farvelo riconoscere. In questo caso no, si va a creare il piccolo pezzo assemblato da poi andare a mettere all'interno del castello, ma non vi dicono esattamente dove posizionarlo, dovete andare voi ogni volta a cercare di capire col ditino dove andare a posizionarlo precisamente. Quindi si perdeva tempo a volte per andare a localizzare i pezzi, perché magari te ne restavano due in mano e non sapevi esattamente dove collocarli, però con un minimo di attenzione ci si riesce facilmente. Quindi lavorateci sopra a mente molto lucida, magari sessioni da massimo due orette e poi mettete tutto in pausa perché altrimenti diventa davvero stressante. Detto questo, oltre al castello, all'interno della confezione troviamo questa basetta da montare con i quattro fondatori. Abbiamo Grifondoro, Tasso Rosso, Serpe Verde e Corvo Nero. Io li trovo molto carini, ma un po' fuori luogo, perché ad esempio io non li metterò esposti assieme al castello, perché li trovo molto stonati vicino al castello, fuori scala. E sì, una bella aggiunta, sono dei personaggi esclusivi da collezione, ma credo che li riporrò all'interno della scatola del castello e non li metterò mai esposti assieme a questo, perché proprio non mi piacciono, non li trovo sensati. Ma comunque ci sono, sono carini, ma se fossero stati venduti a parte forse meglio. Invece troviamo anche un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso, che sono sei barchette di queste qui. Sono sei barchette da assemblare in cinque o sei pezzi, che vanno a simulare le barchette che accompagnano gli studenti del primo anno ad Hogwarts. Io devo dire che non mi fanno impazzire, anche queste leggermente fuori scala rispetto a tutto il castello, un po' troppo grandi. È possibile posizionare dentro un mini personaggio, un micro personaggio, però non mi piacciono, non le trovo funzionali, le trovo un po' inutili. Anche queste qua credo che non le metterò esposte, perché è più alto il rischio di perderle che la bellezza di tenerle esposte. Non trovo proprio il senso, non mi piacciono, ecco. Quindi anche queste non le metterò esposte. E poi invece altre due cosine da mettere sempre affiancate al castello, in scala, e che invece mi sono piaciute. E si tratta di... Il platano picchiatore, davvero molto molto carino da montare in tantissimi piccoli pezzettini, con addirittura una minuscola Ford Anglia da andare a posizionare sui suoi rami. È molto carino anche perché tramite un piccolo sistema interno va a ruotare, quindi è molto molto carino, mi piace parecchio. E naturalmente con la sua Ford Anglia molto molto instabile, però ancora più bello da posizionare così esposto vicino al castello. Questo mi è proprio piaciuto. Naturalmente ragazzi, come potete vedere dalle immagini, la Ford Anglia molto molto stilizzata, come tutto il resto. È stato riprodotto in microscala, perché ovviamente non si poteva fare altrimenti per averlo tutto intero, anche se in realtà, come detto prima, non è totalmente intero. Siamo a circa il 70% del castello, perché manca tutta l'ala delle serre, che secondo me arriverà in un secondo momento. Ma vedremo. Però comunque mi piace davvero tanto, perché nonostante sia tutto un po' abbozzato, sono riusciti a rendere l'idea di tutte le varie architetture classiche del film molto molto riconoscibili già a prima vista, quindi sono stati davvero molto molto bravi nella realizzazione. E poi, altro piccolo elemento che troviamo a parte è questo qui. Si tratta della capanna di Hagrid. Troviamo un piccolo ragno sul retro, un piccolo ragno gigante però, se posizionato vicino alla capanna, e sul davanti anche tre piccole zucche. Molto carina, anche questa molto molto stilizzata, però devo dire che funziona nell'insieme, quindi anche questa qui mi piace davvero parecchio. Per il resto il castello è davvero bellissimo. Sono avanzati un po' di pezzi, ecco di qui circa un centinaio di pezzi, si tratta di tutti quelli più piccoli, tutti quelli più particolari, che magari, qualora voi andaste a perderne uno, sarebbe un po' un problema andare a recuperarlo, invece qui vi hanno dato tutti i pezzi di ricambio più particolari, quindi c'è anche un buon avanzo. Ma detto questo, ragazzi, adesso passiamo ad esaminare il castello, soprattutto il suo retro. Andiamo a separare il castello, che è formato da due parti differenti. Prima andrà assemblata questa parte qui, e successivamente quest'altra parte, che poi andranno agganciate l'una con l'altra, per formare l'intero castello. In questa prima parte troviamo la sala grande, la torre con l'ufficio di Silente e le scale, e la camera dei segreti. Naturalmente è molto molto bello anche l'esterno, con la piccola rimessa per le barche, e anche il cortile esterno, dove c'è l'orologio, e io qui ho posizionato i tre protagonisti. Mi piaceva molto metterli lì. Ma andiamo a girarlo, è molto molto fragile, quindi bisogna stare molto attenti, perché i pezzi tendono molto facilmente a staccarsi. Quindi questo va semplicemente messo esposto e toccato il meno possibile, secondo me. Ma andiamo a ruotarlo. Devo dire, ragazzi, che è davvero molto molto grande. Io pensavo fosse molto più piccolo, però devo dire che ci sta. Ci sta tutto e non è esageratamente grande, quindi è ancora possibile metterlo esposto in camera. Naturalmente aggiungendo anche un altro pezzo, non so fino a che punto, qualora uscisse anche la parte delle serre. Ragazzi, ecco qui. Troviamo la sala grande che a me piace tantissimo, perché ha tutte le vetrate colorate che danno davvero un bel effetto quando ci passa la luce attraverso. Abbiamo nella parte superiore qui i dissennatori che volano, scelta stilistica che a me sinceramente non è che mi abbia fatto impazzire, però ho deciso di metterli, di lasciarli, di non andare a compromettere comunque l'intero set togliendo roba a piacimento. E poi abbiamo anche qui in alto nella torre un ungaro spinato, molto molto ben fatto. Qui in alto troviamo l'ufficio di Silente con diversi quadri attaccati e nella parte bassa troviamo anche la Fenice che ci porta in alto con la parola d'ordine. Credo fosse una Fenice o comunque un Ippogrifo o una cosa del genere, adesso non ricordo, forse un Grifone addirittura non ricordo, che comunque con la parola d'ordine ci porta all'ufficio di Silente. Rende molto molto bene l'idea, molto carino. Poi subito in basso troviamo il bagno di Mirtilla Malcontenta, anche questo molto molto ben fatto, e le scale che è possibile far muovere, molto molto carine. Devo dire che è molto simpatica e ben realizzata la cosa delle scale mobili di Hogwarts. Ancora più in basso troviamo invece l'ingresso della Camera dei Segreti. Camera dei Segreti che poi troviamo qui al di sotto della Sala Grande, con il suo basilisco annesso. Anche qui tutto molto abbozzato, però rende perfettamente l'idea, e troviamo anche un piccolo mattoncino nero che va a simulare il diario di Tom Riddle, quindi molto molto bene. Sopra invece nella Sala Grande diversi dettagli, troviamo ad esempio la parete con tutti i vari proclami della Umbridge attaccati, e poi troviamo per intero la Sala Grande con i suoi quattro banconi, troviamo anche in un adesivo le quattro clessidre con i punti delle case. Devo dire che ci sono presenti molti molti adesivi, e io inizialmente avevo storto il naso, credevo che non sarebbero stati granché da vedere. Invece sono adesivi di altissima qualità, che aderiscono perfettamente, neanche uno mi ha lasciato una bolla, una piega sul pezzo, non si staccano più neanche a morire, quindi davvero ottimi adesivi, ottima soluzione per dare più dettaglio al castello, quindi alla fine promossa anche questa decisione. E direi che da questa parte abbiamo un po' esaurito le parti da andare ad analizzare, abbiamo anche gli standardi delle varie case appesi sul tetto della Sala Grande, abbiamo il tavolo dei professori, tutto comunque al suo posto, quindi ben fatto a Lego. Ma adesso passiamo invece alla seconda parte. Eccola qui, con il suo bel ponte di collegamento tra le due ali del castello, che è stato davvero molto complicato da montare, ma mi è piaciuto un sacco il risultato finale, tutte le torri davvero molto molto belle, questa parte è molto più movimentata, ma molto molto piacevole da realizzare. Più piacevole della prima perché la Sala Grande è davvero molto complessa, è molto tediosa perché bisogna andare a fare tutte le vetrate, pezzettino per pezzettino, alternare tutti i colori seguendo i vari schemi, è davvero abbastanza pesante da fare. Però alla fine il risultato ripaga di tutto lo sforzo. Qui andiamo a ruotare leggermente questa parte, perché c'è una parte che non si nota quando si vanno ad attaccare i pezzi, resta coperta, ma che trovo molto molto interessante, perché è stata riportata per intero la prova che andava tutti i vari, diciamo, tranelli che andavano a condurre alla pietra filosofale nel primo film. E infatti troviamo qui, all'interno di una specie di incavatura, troviamo il tranello del diavolo con appunto i suoi rampicanti, che sono stati molto molto ben ricostruiti qui, e che quando viene attaccato al muro di questa parte, va totalmente perso, non si vede più. Quindi mi piaceva farvelo vedere. E ruotando ancora il castello, ecco che troviamo invece, da questa parte, tutte le altre prove rimanenti. Troviamo qui, abbiamo la parte della scopa e delle chiavi volanti, molto molto carina, anche questa ben realizzata. Accanto troviamo la partita di scacchi magici, e poi ancora andando avanti, qui troviamo Voldemort con Bellatrix, li ho posizionati lì, ci sono una ventina di micro personaggi, molto riconoscibili, alcuni sono studenti generici, ma abbiamo anche l'Humbridge, abbiamo Professor Silente, abbiamo Lupin, Gaza, e poi Voldemort, Bellatrix, Harry, Ron, Hermione e poi vari personaggi un po' casuali. C'è anche Piton, mi è piaciuto parecchio, infatti Piton l'ho messo nell'aula di pozioni, che tra poco vi mostrerò. Ma qui troviamo lo specchio delle brame, con addirittura una piccola pietra rossa, che sta a simboleggiare la pietra filosofale. Poi, continuando sopra, invece troviamo l'aula di incantesimi, che mi è piaciuta un sacco, dove ho messo la McGranit, e poi troviamo anche l'ufficio dell'Humbridge, tutto in rosa, con una micro-Humbridge accanto. È stato molto ben realizzato, perché comunque sono state introdotte parti, prelevate da diversi film. Troviamo il bagno di mirtilla del quarto film, troviamo la Humbridge dal quinto film, troviamo la camera dei segreti dal secondo film, troviamo le varie prove della pietra filosofale, prelevate dal primo film, troviamo il platano picciatore dal terzo, quindi è stato tutto un mix ben giostrato. Troviamo anche qui nel corridoio, dove ho messo Gaza, troviamo anche la scritta che appare sulle pareti, che dice che appunto la camera dei segreti è stata riaperta. E poi, ragazzi, andando ancora a ruotare questa parte di castello, scusate il rumore inevitabile, troviamo la sala comune di Grifondoro, troviamo la libreria, e in basso invece, l'aula di pozioni con Piton, è addirittura la stanza delle necessità. Quindi devo dire che non manca davvero nulla, è molto molto dettagliato. Fatemi sapere voi nei commenti se vi sarebbe piaciuto trovare qualche altra aula, qualche altro scenario, ambientazione, che invece nei film si è vista parecchio, che magari qui non abbiamo trovato. Secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Ma adesso cercherò di rispondere alla domanda che in tantissimi mi avete posto. Dove lo metterò? Ragazzi, dopo lunga riflessione, dopo tanto ponderare, finalmente ho trovato un posto che secondo me è degno di questo pezzo e che potrà rimanere sotto gli occhi di tutti anche in futuro. Ebbene, ho deciso di posizionare questo bel castello proprio alle mie spalle. Ragazzi, ebbene sì, dove avrei mai potuto metterlo se non qui accanto a me, dietro, nel mio sfondo, in bella vista, nel posto che secondo me merita. Ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questo set Lego, se avete intenzione di comprarlo, se vi ho convinto, se eravate in dubbio e adesso siete ancora magari più in dubbio o vi ho chiarito le vostre idee. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è la parte che soprattutto vi è più piaciuta di questo castello. Io devo ammettere che sono davvero innamorato dell'aula di incantesimi. Mi è piaciuta davvero tantissimo, l'ho trovata super super dettagliata. Ebbene, vi ricordo che io ho acquistato il mio castello dai ragazzi di Mini Big World Collectibles, quindi qualora foste interessati trovate il link sotto in infobox e naturalmente ragazzi trovate anche il link per acquistare le magliette di Pampling col 15% di sconto utilizzando il codice 7Potter e invece su Mini Big World Collectibles utilizzando il codice serie 5 avrete 5 euro di sconto su una spesa minima di 30. In questo periodo ci sono anche tantissime offerte sui Funko Pop e tantissimi altri articoli. A questo punto non mi resta che dirvi le solite cose. Ragazzi, qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti, seguitemi su Instagram mi trovate come antonio.seria e ragazzi adesso do un taglio alle ciance e ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!